Siracusa, vaccinazione di prossimità funziona, punti itineranti nelle piazze, nei lungomare e nei centri commerciali. Il successo delle vaccinazioni anti-Covid-19 eseguite nei centri commerciali della provincia di Siracusa, dove in tre fine settimana sono state inoculate 1.612 dose di vaccine nelle zone balneare e nei luoghi della movida per le campagne di prossimità promosse secondo l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana e sostenute dall'Assessorato Regionale della Salute, ha suggerito alla Direzione Generale dell'ASP di Siracusa di adeguare la strategia vaccinale alle esigenze dei cittadini scendendo nelle piazze, nei luoghi di maggiore aggregazione e tornando nei centri commerciali, dove chi vorrà potrà vaccinarsi senza prenotazione. L'aumento dei casi di positività di questi giorni, dice il Direttore Generale dell'ASP di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, deve fare riflettere chiunque a non avere più alcuna esitazione a vaccinarsi subito. La comunità scientifica in questo è chiara. Avere avuto somministrato il vaccino significa preservare chi si contagia dagli effetti gravi del virus, dai ricoveri in ospedale e nelle terapie intensive. E riducendo la circolazione del virus si riduce il contagio. Non è più tempo di esitare. Dal 6 agosto è obbligatorio presentare il Green Pass per muoversi in tutti i luoghi comuni in sicurezza. Chi effettua la prima vaccinazione potrà ottenere dopo 15 giorni della inoculazione del Green Pass, che è valido fino al completamento del ciclo con la seconda dose. Ringrazio a nome dell'azienda e dei sindaci, l'associazione di volontariato, il personale aziendale e quanti si stanno prodigando al nostro fianco per il raggiungimento di un obiettivo comune. Alle attività vaccinali svolte nei centri e negli hub di tutti i comuni della provincia, da oggi al 14 agosto la direzione sanitaria dell'Aspri di Siracusa ha predisposto un corposo calendario di apertura straordinaria con la dislocazione di numerosi punti vaccinali di prossimità ovunque dove sarà somministrato senza prenotazione il siero Pfizer o Moderna. Squadre di medici, vaccinatori, infermieri professionali, informatici, psicologi dell'URP e volontari dell'azienda e dell'associazione dei volontariato della protezione civile alla Croce Rossa Italiana e alla Misericordia sono pronti a scendere in piazza. Si parte dal centro storico di artigene a Capoloco alle ore 21 a mezzanotte in piazza 25 luglio dove sarà allestito con la collaborazione dell'assessore Sergio Embrò e volontari della protezione civile del comune di Siracusa un punto vaccinale a disposizione dei seracusani, dei giovani, dei turisti e di tutti i cittadini che a partire da 12 anni di età compiuti decidono su base volontaria di vaccinarsi. Dal 3 agosto a Noto il sindaco Corrado Bonfanti apre alla vaccinazione del teatro comunale Tina Di Lorenzo un punto vaccinale sarà allestito all'interno del teatro con la collaborazione della Croce Rossa Italiana del comune di Noto dove i cittadini che si vaccineranno potranno godere delle bellezze del teatro Nettino diventando essi stessi protagonisti. Il punto vaccinale sarà attivo dalle 21 alle 24 e tutte le sere fino al 14 agosto. Si ripete l'iniziativa nei centri commerciali Parco Belvedere di Contrataspalla a Merilli in collaborazione con il comune di Merilli e la Misericordia dove il punto vaccinale sarà riaperto da mercoledì 4 agosto al 14 agosto dalle 16 alle 21 e al centro commerciale del Giardino di Avola che prosegue l'attività vaccinale fino al 14 agosto sempre dalle 16 alle 21. Il centro commerciale Archimede di Contratafusco l'iniziativa sarà programmata dopo ferragosto. Punti vaccinali straordinari anche a Rosolina all'interno del centro commerciale L'Eremo dei Fratelli Spadola dove si parte venerdì 6 agosto dalle 16 alle 20 e 30 grazie alla disponibilità della direzione del centro e all'aperto di sera negli ambienti della Movida in piazza Garibaldi a partire dal 3 agosto dalle 21 alle 24. L'iniziativa ha incontrato la più ampia disponibilità del commissario straordinario del comune di Rosolini Giovanni Cocco e la fattiva collaborazione del comando dei vigili urbani della confraternità Misericordia. L'ASP sarà presente anche nel comune di Francofonte dove in collaborazione con il sindaco Daniele Nunzio Lentini la Croce Rossa Italiana Protezione Civile Comunale e Associazione di Volontariato allesterà una postazione in piazza Dante nei pressi della Villa Comunale dalle 21 a mezzanotte a partire dal 3 agosto fino a domenica 8 agosto. Anche a Marzamemi l'azienda sanitaria grazie alla collaborazione dei commissari del comune di Pacchino e della Misericordia ha predisposto a un presidio vaccinale che sarà attivo in via Marzamemi all'ingresso del Borgo Marinaro da mercoledì 4 agosto sempre dalle 21 a mezzanotte. Infine a Floridia si inizierà con le vaccinazioni anti-covid-19 in piazza del popolo domenica 8 agosto dalle 21 alle 24 e si proseguirà con altre serate per tutto il mese di agosto grazie alla fattiva collaborazione del sindaco Marco Cariani e dell'assessore comunale alla cultura Paolo Aguozzo con il supporto della protezione civile della Croce Rossa Italiana in concomitanza con gli eventi estivi promossi dal comune di Floridia.